lo stasso santuario qua in mezzo come ci arrivo e come ci vado là in mezzo da sopra sicuramente sta da sopra ok dove stanno i cosi per salire ciao fra se ne vedo se ne vedo per aver guardato Sopta Eccola Chi è questa? Eccola Questa è la cosa da purificare Eccola No, ho trovato ancora un'altra cosa Il potere dell'acqua Sopta 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 Ok Ok Oh, però devo salire compa Non mi fai salire Ok Andiamo Allora 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 Donna, ma qua Dove devo andare? Qua giù Qua Ok Quindi Andiamo a purificare questo K K K K Sta andando bene? Sì Qua A sinistra Eccola Eccola Reva Eccola Le 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 ok ok, non è buon male quindi ora puoi dare il cazzari allah lo sciopettino del gattino se la faccio con quello oh 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 E' un'altra cosa Non c'è più attacchi Ok non do Eh qui ho sudato un po' dai Allora come ci salgo qua da qua Allora come ci salgo Non c'è più attacchi Ehm, se come ci salgo qua Ok Ehm, se come ci salgo Tu non eri morta una volta, compa Ehm, se come ci salgo Ehm, se come ci salgo 8, vai Se salgo Kappa, kappa Non ci salgo a te, gamba Non c'ho più nulla Ah, magari è rica rica a te dai Ah Affa cuccola, va Non si apre? No Dove devo andare? Allora, io vengo da qua 8 Qua si esce, si Vai, lì, si esce, si Ok Ma dove salgo? Ma qua? Salgo? Penso a DC, dai Non ci salgo Non ci salgo Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Allora liberiamoci C'è delle anime Ce n'ho troppe Ok Ok Vediamo abilità Che roba è questa? Città ravida Ok Qua niente Qua niente Ok a posto Vai Roba questa Tarismani stordenti Ok 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 Oh, penso che posso uscire una notte Oh No Non c'ho attacchi, porco dudu Un po' di fuoco Talismano Non c'ho attacchi Ah, f*** Agora Ah, che palucola Vai Ma Non c'ho attacchi Non c'ho attacchi C'è bordo C'è bordo No, no, no. Grazie a tutti. Grazie. Ok, qua non posso salire con gli spiritelli amichelli. Vabbè, vai andiamo. 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 Ok. Marie, sto arrivando Marie Che ci sta più qua Da cercare E allora Siamo qui per controllare la zona Ci sono altre cose Penso di no Ah Dove è uscito? C'è uscita una cosa qua La mano non la mette più Mannaglia E' il tipo che ci ha seminato prima Ah, l'ombretta Ok 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 abbiamo utilizzato Lo spostamento rapido Ma usciamo da qui dentro Ok 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 Eccolo, siamo arrivati Andiamo, vediamo questo che cacchio vuole Eccolo, vediamo Eccolo, vediamo Eccolo, vediamo Eccolo, vediamo Eccolo Oh 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 Eccolo Oh 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 Fatti fatti tuoi Come va Oh 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 Ah, è un santuario? Eh, ti pareva che ti avevo detto? Bossettino? Sì, non è vero. Grazie a tutti. Mamma mia che concentrazione. Ma che bastardo questo. No. Fammi ricaricare in grazia di Dio. Oh ma non c'ho i cosi stardenti. Fuochino. Yes. L'ho fatto. Muori bastardo. Dai. A casa. Sei morto. A casa. Ma che stai facendo. Ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Ah? No, 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 no. Ma che roba è mai questa Compa No Ha fregato Kaka Mi ha fregato l'anima di Kaka Fatti un po' le cazzi tua E' vero anche questo però Lei non capisce Compa Eh certo Compa Vuoi essere morto Non c'è più i powers Eh fammi capi pure a me Quindi lui allora che cosa Non c'ho più poteri Gatti due Non c'è più l'anima di Kaka Non c'è più l'anima di Kaka Non c'è più l'anima di Kaka